L'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Domenica Catalsamo comunica che la Calabria sarà tra le prime d'Italia a ricorrere alla deroga al dibattito pubblico per la realizzazione delle opere di interesse e di rilevanza sociale. Con la deliberazione 3 dello scorso 3 di gennaio, precisa l'assessorato, l'intervento sulla strada statale 106 di competenza ANAS, itinerario invariante sul nuova sede Catanzaro Crotone dallo svincolo di Simeri Cricchi allo svincolo di Passo Vecchio, in forza delle sue caratteristiche quale grande opera infrastrutturale di rilevanza sociale avente impatto sull'ambiente e sull'assetto del territorio di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale. Un'opera, dice ancora la Catalsamo, che interessa un ampio e importante tratto della 106, ossia l'arteria stradale che, percorrendo la costa ionica calabrese, serve oltre 500.000 cittadini residenti. Queste prerogative dell'opera, formalmente sancite dalla Giunta regionale anche a seguito di richieste e condivisione con gli enti locali interessati, consentiranno di procedere ai sensi del medesimo articolo, accelerando le procedure per le successive fasi progettuali. Acquisito il parere formale favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, con successo a Toanas, verrà autorizzata a derogare dalla procedura di dibattito pubblico sugli strudi progettuali in corso. Già nei prossimi giorni il competente Dipartimento regionale avvierà il relativo ITER tecnico-amministrativo. L'assessore Catalfamo evidenzia l'importanza della scelta adottata in maniera pionieristica dalla Regione Calabria, d'intesa con l'ANAS, e potrebbe essere evitata una procedura che solitamente dura dai 6 a 12 mesi, accelerando il complessivo ITER per la realizzazione di una grande opera attesa da tanto tempo, e che contribuirà ad un concreto impulso dello sviluppo socio-economico del territorio interessato. La semplificazione del complesso ITER autorizzativo per l'avvio dei lavori, conclude l'assessore Catalfamo, è inoltre coerente con l'obiettivo primario dell'assessorato regionale delle infrastrutture e lavori pubblici, che mira allo snellimento delle procedure e all'accelerazione della realizzazione delle opere, fruendo di ogni possibilità giuridica contenuta nel decreto semplificazione in materia di contratti pubblici.